In Senato per l'ok al decretone c'era anche il Premier Conte che poi ha replicato a Confindustria. L'Italia ha detto a fondamenta solide, è il momento di lavorare con fiducia. Andrea Bovio. La solidità finanziaria dell'Italia non è in discussione, i fondamentali della nostra economia sono solidi. Il Premier Giuseppe Conte l'assicura. Avevamo previsto che ci sarebbe stato un momento di congiuntura sfavorevole, dice, ma le condizioni generali dell'Italia non devono destare preoccupazione. Il nostro Paese ha bisogno del contributo di tutti, sottolinea, per una nuova stagione di operosità. Il Governo, aggiunge, sta lavorando a misure che contribuiscano alla crescita. Inoltre, senza i provvedimenti già messi in campo, il rallentamento dell'economia sarebbe stato assai peggiore. Il Premier arriva in Senato per il voto finale sul decretone che contiene quota 100 e reddito di cittadinanza. E non nasconde la soddisfazione, misure di cui la popolazione aveva bisogno, dice, che sosterranno i più deboli e avranno un impatto sui consumi. Sul tavolo dell'esecutivo, il decreto sblocca cantiere, di cui sono stati definiti gli ultimi dettagli, è quello sulla crescita che arriverà in Consiglio dei Ministri la settimana prossima. Entrambi al centro di una riunione con i ministri a Palazzo Chigi, utili anche in vista del DEF. Quanto alla TAV, il dossier è soggetto a revisione integrale, ricorda, ci confronteremo con la Francia e con la Commissione europea, dopodiché trarremo le conclusioni. A Confindustria ribatte anche Matteo Salvini. Ci dia una mano, i gufi verranno smentiti dai fatti. Il ministro dell'Interno ha incontrato al Viminale i ragazzi del bus dirottato a San Donato milanese.